Sempre molto difficili da digerire, dopo lo svantaggio non ci hanno creduto più e non sono riusciti a recuperare. Non ci resta più molto tempo, grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È stato un grande piacere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.